Gentili telespettatori, ben trovati, ci troviamo nella redazione di Cilento Channel, guardato un po' chi è venuto a trovarci, il grande mitico Giampiero Lancellotti per portarci una bella notizia, ma sentiamo direttamente da lui di cosa si tratta. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti i telespettatori di Cilento Channel, grazie per avermi qua come ospite stamattina. Io ho una bella novità veramente perché noi abbiamo combattuto per circa tre anni perché io ho fatto un progetto di un'associazione che si chiama CIA, Cavallo Italo Americano. Questa associazione dà la possibilità a tutti i cavalli italiani nostri, a partire dal Salernitano, che è della nostra regione, al Siciliano, San Fratellano, al Murgese, tutti i cavalli italiani, di fare un incrocio con un cavallo americano di razza Quarter, Appalusa e Paint. Queste tre razze americane, incrociandole con le nostre razze italiane, facciamo il cavallo italo-americano. Tu mi dici perché fare questo incrocio? Perché tutte le razze nascono così, perché non c'è una razza che non è stata incrociata con un altro cavallo. Noi vogliamo fare un cavallo che dà potenza, tranquillità, robustezza, resistenza, che può essere usato per trekking, può essere usato per gare a livello agonistico, può essere usato per fare solamente il cavallo da compagnia. Quello che noi miriamo molto è che il cavallo Quarter, Appalusa e Paint trasmettono la tranquillità, trasmettono la potenza, trasmettono il mantello, perché i nostri cavalli, tipo il cavallo maremmano, che nasce come cavallo baio, il baio è un mantello marrone. Invece il cavallo Paint è macchiato, è pezzato, allora incrociandolo con il cavallo maremmano diamo la possibilità, l'opportunità a persone che fanno questo come mestiere, tipo un allevatore di cavalli maremmani, che ha solamente il cavallo baio, però incrociandolo con il paint possiamo fare un maremmano pezzato. Allora se per esempio una persona che gli serve il cavallo pezzato, oppure il cavallo Appalusa, il cavallo Appalusa invece con i puntini sulla groppa, ha una coperta sulla groppa, invece il Quarter è solamente Mando Isabella, Mando Sauro, Mando Baio. Se uno per esempio ha molta disponibilità di mantelli, di forme, perché il Quarter, come noi sappiamo, è il cavallo più veloce in un quarto di miglio, in 400 metri il cavallo più veloce, non viene superato e battuto da nessuno. Infatti tanto tempo fa lo usavano come pony express, che tra un paese e l'altro portavano la posta e usavano proprio il Quarter Horse. Ringrociandolo con un cavallo maremmano, che è un cavallo già forte lui, è un cavallo già di temperamento, che cosa gli diamo a dare? Andiamo a dare lo scatto, la tranquillità, il mantello, il tipo il Quarter Horse ha non un problema, ha come struttura il piede molto piccolo a confronto con il corpo. Diciamo che un cavallo di cinque quintali, un Quarter Horse di cinque quintali, di robustessa forte, ha il piede che è due come zoccolo. Diciamo che è come fare un palazzo con le fondamenta piccoline. Che cosa succede? Prima o poi si rompe. Così è il Quarter Horse. Allora incrociandolo con il maremmano, che ha un bel piede tipo cinque, è un cavallo di sei quintali, cinque quintali, però che ha il piede cinque, che cosa succede? Che andiamo a rinforzare le articolazioni. Il maremmano è un cavallo che nasce nelle montagne della maremma, dove è molto rustico come cavallo. Allora che cosa succede? Che non ha bisogno di tante cure, può stare pure all'aperto, può stare alle intemperie, logicamente sempre con le normative della protezione animale, del benessere animale. Non è che lo possiamo mettere a una parte dove, che ne so, viene maltrattato. Sempre con il ricovero, sempre con le normative che ci sono al momento. Quello che voglio intendere su questa razza è che noi vogliamo fare un cavallo che è forte, scattante e nello stesso tempo tranquillo. Io penso che già siamo a un buon punto, perché gli iscritti già sono tanti, i puledri stanno nascendo, c'è già qualche puledro che è nato già due anni fa, però noi ancora non avevamo l'autorizzazione e non ci potevamo muovere. Però adesso siamo a posto e siamo partiti alla grande con questa associazione. Noi diciamo a tutte le persone che si vogliono avvicinare a questa associazione CIA, Cavallo Italo-Americano, di contattare me, perché io sono il presidente, e voglio dire che non è un'associazione solo a livello campano, a livello salernitano. È tutta Italia, da Piemonte alla Sicilia. Sardegna chiunque ha una cavalla che ha solamente il libretto grigio italiana e la fa copiare con un quarter, una Palouse on Paint, ci contatta oppure va sul sito www.cavalloitalamericano.it e si vede tutte le cose come sono là sopra, e ci contatta e noi gli spieghiamo, poi c'è la segreteria, gli spiega tutto quello che ci deve mandare, tipo le fotografie del puledro, tutto il microchip, tutta la fotografia del padre, la fotografia della madre, e viene inserita in un albo, dove è un albo di razza, che noi stiamo partendo quest'anno, 2019 siamo partiti e vi aspettiamo numerosi.